Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Come scrive Index, il principale quotidiano in rete d'opposizione ungherese. Ormai il primo ministro ungherese ha avvertito, prima di partire per Mosca, ieri sera, quindi alla volta, ne visita da Putin quattro giorni dopo solamente la visita, la prima, ormai dal 2019 se non ricordo male, i primi mesi del 2020, subito dopo l'elezione di Zelensky a Presidente della Repubblica a Kiev, quindi la visita nella stessa capitale, Ucraina, la prima volta dallo scoppio della fase internazionale del conflitto, almeno nella zona del Donbass, ben dopo quindi i fatti di Euromaidan e dell'annessione russa della Crimea. Orban, dicevamo come scrive il titolo di questo articolo, ha avvertito il Presidente del Consiglio Europeo, il belga popolare Charles Michel, prima di partire alla volta di Mosca nella serata di ieri. Secondo lo stesso politico popolare belga Michel, Orban non andrà a rappresentare il punto di vista dell'Unione Europea, cioè europeista tradotto in parole povere. La Russia, questo è il punto di vista dell'UE di Bruxelles e Strasburgo, della maggioranza del Parlamento Europeo, del Consiglio Europeo e della Commissione von der Leyen, chiaramente. La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima, quindi l'aggredita, e per quanto riguarda le trattative per un cessato il fuoco e una pace successiva, queste possono svolgersi solo con la partecipazione dell'Ucraina, possono svolgersi senza la partecipazione della Russia. Questa è la cosa non detta direttamente ma implicitamente dallo stesso Charles Michel. Orban, dice, lo stesso belga, non ha il mandato da Presidente di turno del Consiglio Europeo, il semestre ungherese, per parlare, andare a Mosca, parlare a nome dell'Unione Europea. E quindi non può andare, se non solo, tra virgolette, in vesta a Primo Ministro di uno Stato membro, andare a trattative con Putin, Presidente del Cremlino. La presidenza di turno dell'Unione Europea non va a rappresentare, se non previo accordo dei 27, tutti i 27 Stati membri UE, il punto di vista della stessa Unione Continentale, la cosiddetta comunità, secondo altri, impero, quanto meno franco tedesco, degli interessi di una certa elita americana. A seconda dei punti di vista, sicuramente, ci sono i federalisti e ci sono i cosiddetti sovranisti. La reazione più interessante a tutto questo e alla visita, prima ancora, a Kiev di Orban, quattro giorni fa, sicuramente quella di un quotidiano serbo di Belgrado. Sapete le relazioni storico-culturali strette con la Russia, tra Vucic, soprattutto, Vucic, il partito socialista di Bulin, e il Cremlino, la Russia, scrive il quotidiano Novosti.serbia. A Kiev si sono accordi, accorti quindi Zelensky, Shmiel e gli altri, che Budapest può creare seri danni, problemi, alla stessa Ucraina, agli interessi nazionali ucraini, o alla guida americana dell'Ucraina da Euromaidan, Victoria Nuland, dei 5 miliardi di dollari. Per questo motivo Orban ha presentato il conto da pagare a Zelensky quattro giorni fa nella capitale ucraina. Scrive sempre lo stesso quotidiano serbo, non sono mie parole, sia ben chiaro a tutti. L'Ungheria ha chiesto 11 cose all'Ucraina per evitare l'esercizio ungherese nel Consiglio europeo, almeno al diritto di veto e di voto ungherese, voto contrario quindi. L'Ungheria ha promosso una proposta a Kiev per una possibilità di un cessato il fuoco, una risoluzione diplomatica del conflitto in corso in Ucraina orientale e meridionale. Quindi un documento da firmare, un accordo, per risolvere soprattutto i rapporti bilaterali terribili tra Ungheria e Ucraina, soprattutto per quanto riguarda la minoranza etnico-linguistica ungherese in Transcarpazia, oblast regione nell'estremo ovest dell'Ucraina. Olga Stefaniscina, che è vice primo ministro, il numero 2 di Shmial del governo ucraino, ha detto che l'Ucraina è pronta, subito Kiev è pronta a fare abbastanza proprio per ristabilire, diciamo così, i diritti costituzionali tolti a partire dal 2015 alla minoranza anche ungherese, in Transcarpazia ci sono i ruteni, i rumeni, i polacchi eccetera. Un analista russo, questo è un articolo del 3 luglio scorso, di due giorni fa appena, però un analista russo a Riano Vosti, lui è capo direttore dell'Istituto per la Ricerca dell'Accademia Europa Russa, Mikhail Vedernikov, aveva previsto una visita del primo ministro ungherese, ma d'autunno, quindi al termine di questa stagione estiva. Evidentemente lettura sbagliata, comunque già c'erano delle voci, quindi anche a Riano Vosti e a Mosca, di una probabile, molto probabile visita del primo ministro ungherese, subito dopo quella di Kiev, quindi quattro giorni, appena quattro giorni dopo in realtà, e non d'autunno, mentre quella di Zelensky all'inizio dell'estate, quindi. Donald Tusk, le relazioni europeiste, politici e stampa. Partiamo dal primo ministro di piattaforma civica europeista di Varsavia. Le voci sono vere o no, Orban, sulla tua visita di oggi, oggi stesso nella capitale russa? Quindi una domanda ovviamente ironica, sarcastica, oppure provocatoria, anzi, meglio dire provocatoria, di provocazione. Nella stessa Polonia, che non guarda allo specchio quello che sta succedendo, uno scandalo mediatico sicuramente, politico sicuramente, poi ditemi voi chi vive in Polonia se veramente è così. Ci sarebbero state delle torture ai danni di un prete cattolico nella Polonia, del governo Tusk. Michal Olszewski, quindi un prete, è stato a fine marzo arrestato, messo in galera. L'accusa aver ripulito, quindi i soldi riciclati da un fondo gestito dal governo precedente, nazional conservatore di diritto e giustizia PIS di Moraviesi, da 66 milioni di euro, un utilizzo quindi illegale. Secondo l'accusa. Lo stesso affaire ha un lato politico, come abbiamo detto, perché tutto questo, questi soldi riciclati, sarebbero stati riciclati, secondo le accuse europeiste possiamo dire, sotto il governo diritto e giustizia, quindi euroscettico. Il ministro, allora ministro della giustizia, Zbigniew Zobro, è stato poi anche tra l'altro arrestato per qualche giorno da Tusk a fine 2023, ricorderete l'ho raccontato in questo canale. La stampa polacca, almeno parte di questa, ha pubblicato anche una lettera in cui Olszewski racconta di tortura e i suoi danni in galera, i primi 60 ore di reclusione in manette, non ha preso da mangiare, poco da bere acqua di rubinetto e non aveva un bagno addirittura, ma doveva farla in una bottiglia di vetro. Ogni ora si accendevano le luci una lampadina di notte, e quindi in torture, secondo quindi quanto riferisce il prete, le sue accuse allo Stato, quindi anche al governo, e ci sono anche delle telecamere che lo guardavano 24 ore su 24 per queste prime 60 ore. Tutto questo, lo sappiamo, è vietato dalle Nazioni Unite, dall'ONU, quindi non la tortura. Tusk ha reagito, ha detto, sono accuse da parte del prete assurde, orchestrate dalla ex maggioranza, dall'ex governo nazional conservatore, ma inizieranno delle indagini per fare luce su quello che è accaduto nelle prime 60 ore di reclusione del prete. Prete è stata a lui allungata la reclusione recentemente, nelle ultime settimane, di altri tre mesi, quindi nelle galere polacche. Come ricorda Monti, in attestata conservatrice ungherese Filorban, l'aggressività non è molto lontana dalle consuetudine del governo europeista di Donald Tusk, perché dei rappresentanti, dei politici del PIS, quindi diritto e giustizia, sono stati arrestati davanti al palazzo presidenziale, se non ricordo male, a dicembre 2023. Poi ci sono state le violenze nella struttura, nella sede della radio e televisione pubblica TVP e il cambio violento dei vertici a favore dell'europeismo. È stata ferita anche una parlamentare del partito ormai dell'opposizione PIS. La propaganda arcobaleno è entrata nei media pubblici polacchi, per la prima volta sotto il nuovo governo Tusk. Strappo di Orban titola Anza, quindi tutto il mondo dei media allineati europeisti, NAFO, italiani. Anza è uno dei siti più visitati, siti di informazione in Italia, insieme al Corriere, insieme a Repubblica, che titolano in maniera simile, se non quasi identica, diciamocelo. Strappo di Orban perché per loro la pace è giusta, come per la Meloni d'altronde, trattare solo con una parte quella ucraina, stare solo da una parte quella ucraina, addestrare soldati di una parte, soldati ucraini in territorio italiano, sostanzialmente stare in guerra, far proseguire la guerra e indebolire la Russia, come vogliono gli interessi di certe elite d'oltreoceano. Intanto andiamo a vedere il punto di vista di Putin. Cosa ha detto? Putin è pronto, si è pronto a stringere un patto diplomatico per chiudere il conflitto in Ucraina. Quindi conferenza stampa del presidente del Cremlino all'SCO, al seguito, quindi nell'incontro dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica di Shanghai. Si è parlato quindi di una possibilità di un cessato il fuoco. Però per Putin questa è possibile, è impossibile, anzi senza un accordo tra le parti in gioco. Quindi tramite tramiti, scusate il gioco di parole, è impossibile arrivare al cessato il fuoco in Ucraina. Quindi bisogna, secondo Putin, rivolgersi alla Verhovna Rada, cioè al Parlamento Ucraino di Kiev. Zelensky ha il mandato scaduto, non sarebbe più il presidente, secondo Putin, dal punto di vista legale. L'elite continua in Ucraina, Shmiel, quindi Zelensky, a governare in maniera illegittima. Il cessato il fuoco deve includere tutte e due le parti direttamente, ufficialmente coinvolte. Quindi solo, si fa per dire, Kiev e Mosca, ma in realtà soprattutto Washington. Quindi, per quanto riguarda stringere una pace tra le due parti, non è possibile farlo facendo, scrivendo un documento che non obbligi Kiev e Mosca, entrambe le parti, a utilizzare, non utilizzare, a non sfruttare un cessato il fuoco temporaneo per riarmarsi, per quindi ristabilire, rimettere a posto le fila dell'esercito per continuare il conflitto per gli anni a venire a scapito delle generazioni future. Le parole di Zakharova, la reazione, la portavoce del mistero degli esteri russo, alle reazioni, a loro volta, ucraine e della politica ucraina, alla proposta di un cessato il fuoco di Orban, che è andato in visita nella capitale ucraina quattro giorni fa. Kiev, dice la Zakharova, porta avanti una retorica di pace e assolutamente un travestimento falsa. L'obiettivo è quello fissato dai padroni occidentali, sconfiggere strategicamente la Russia, quantomeno indebolirla al massimo, in vista di uno scontro potenzialmente contro la Cina per Taiwan, soprattutto dalla parte stelle strisce di Washington. Quindi l'Ucraina è nelle mani di Washington, da Euromaidan almeno. Orban Victor, qual è il punto di vista ungherese tanto odiato dagli europeisti, scusate non dagli ungheresi, evidentemente che lo votano a maggioranza. Intervista del primo ministro ungherese subito dopo la visita di ritorno da Kiev a Die Weltwoche, giornale conservatore svizzero. È stata, dice il primo ministro ungherese di Fidesz, una conferenza stampa quella con Zelensky, l'abbiamo visto, l'ho detto anche io, veramente glaciale, molto tesa quantomeno. Gran parte, anzi tutti i capi europei dell'UE che vengono a Kiev, dice Orban, vengono per confermare il sostegno militare all'Ucraina. Il punto di vista ungherese è un altro. Questa non è la nostra guerra, non è una guerra ungherese dell'Unione Europea né della NATO. Non è interesse nostro la continuazione della guerra, ma la pace. Perché è nazione confinante soprattutto. Il primo ministro ungherese ha poi aggiunto che a Kiev lui ha provato solamente di rappresentare gli interessi dei cittadini UE. La visita da Zelensky ha avuto diversi obiettivi. Il primo, quello di porre fine al periodo terribile di relazioni brutte, cattive, tra Budapest e Kiev, soprattutto per quanto concerne la minoranza ungherese a Transcarpazio, l'abbiamo detto. Il secondo, arrivare a una pace, prima riconoscendo i limiti delle parti, i limiti militari delle realtà sul campo di battaglia ucraini e russi. Ovviamente, dice Orban al presidente ucraino Zelensky, non è piaciuta assolutamente questa idea per una possibilità di risoluzione diplomatica della guerra e del conflitto. Un ultimo sondaggio europeista creato, fatto dall'ECFR, danno ragione a Orban. La maggioranza dei cittadini dell'Unione Europea, questo è un sondaggio demoscopico realizzato in 15 paesi UE e non UE, quindi è anche falsato. C'è l'Ucraina dentro ma non c'è l'Ungheria, attenzione. La maggioranza dei cittadini di queste nazioni europee, non solo l'Unione Europea, dà ragione a Orban, dal punto di vista dell'idea del primo ministro ungherese, secondo cui l'Europa deve forzare la mano su chi è per arrivare a delle trattative con Mosca, Washington-Mosca. Il più grande appoggio a questa idea, chiamiamola di Orban, possiamo chiamarla anche turca, viste le ultime parole del presidente turco, che fa parte della Nato, Turchia non fa parte dell'Unione Europea, è maggiore in Italia in questo sondaggio rispetto a chi crede in una vittoria totale ucraina, in una pace giusta. Per chiudere, piccola chicca, il presidente del Parlamento ungherese di Budapest del partito di Orban, Fidesz, Quever Laszlo, neanche per il semestre di presidenza di turno dell'Ungheria e del Consiglio Europeo mette issa la bandiera dell'Unione Europea sulla facciata del Parlamento di Budapest, neogotico, perché la legge ungherese non obbliga questo gesto e quindi c'è la bandiera ungherese e della Transilvania, ma non quella dell'Unione Europea, così come dentro la monocamerale dello stesso Parlamento ungherese. Ditemi la vostra nei commenti. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Maggior Orszag.